I got a letter this morning boy, hey hey honey, I got a letter this morning boy, hey hey honey, I got a letter this morning, gonna see you when the sun goes down. King viene ucciso a Memphis il 4 aprile del 1968, non è al picco della sua popolarità, riceve delle critiche dall'establishment molto impegnato nella guerra in Vietnam con il presidente Johnson, artefice di una vera e propria escalation, sono momenti di tensione molto molto aspri, ma alcune critiche arrivano anche per così dire dalla sinistra del movimento che accusava King di essere troppo moderato, in realtà lui ha una strategia precisa, vuole organizzare una grande marcia a Washington come quella del 1963 contro la povertà, quindi in qualche modo erano cambiate, si erano arricchite le argomentazioni del movimento per i diritti civili, in quegli anni King usava espressioni molto severe sulla società americana, sul sistema americano. Bene, che cosa uccide Martin Luther King? Per capirlo dobbiamo riavvolgere il nastro e tornare al 1955, all'inizio della storia. King è un giovane e brillante pastore battista, figlio di un predicatore importante della città di Atlanta, viene dal ceto medio della comunità afroamericana, riesce a studiare in college e università molto prestigiose e anche iscritto a un corso di dottorato, cosa davvero inusuale per un giovane afroamericano di quegli anni. Si sposa, si sposa con una cantante, Corretta Scott, anche lei afroamericana, hanno insieme molti interessi ma non condividono la stessa provenienza religiosa. King è battista, Corretta è metodista, all'inizio non fu amore a prima vista, per Corretta King era troppo basso e poi era battista, non era metodista e nella sua logica, nella società americana di quegli anni i battisti erano un po' dei tipi particolari, probabilmente un po' più popolari invece dei metodisti che avevano anche un radicamento importante nelle classi sociali più alte. Ma insomma l'amore fu più forte delle differenze religiose e perfino della statura di Martin Luther King, i due si sposano e immediatamente cercano una comunità. La chiamata per così dire arriva dalla chiesa, da una delle chiese battiste di Montgomery, Alabama. Hanno una figlia in arrivo quando partono per Montgomery, in realtà King andando in Alabama non sta pensando al movimento per i diritti civili, sta pensando alla sua carriera, ai suoi studi, al suo dottorato, probabilmente sta immaginando una carriera che va più nella direzione dell'accademia, dell'insegnamento all'università che nella direzione invece del servizio alle chiese. Il viaggio è un viaggio gioioso. Quando arrivano però a Montgomery, nel sud profondo degli Stati Uniti, la situazione del razzismo e della segregazione è per alcuni aspetti ancora più brutale e violenta di quella che avevano sperimentato ad Atlanta. Nel 1955 gli Stati Uniti erano una società segregata. Voglio dire che esistevano due società diverse, l'una a fianco all'altra, una per i bianchi e una per i neri. Scuole per i bianchi, scuole per i neri, ospedali per i bianchi, ospedali per i neri, vie per i bianchi, vie per i neri, chiese per i bianchi e chiese per i neri. Martin Luther King dirà che gli Stati Uniti dalle 10 alle 11 della domenica mattina erano la società più segregata al mondo, alle 10 alle 11 della domenica è l'orario in cui si svolge il culto. Era il momento massimo della separazione tra le due componenti della società americana. Tutto questo era sancito da delle leggi che avevano un nome ammiccante, perfino rassicurante, separati ma uguali. Era questo il principio giuridico che si voleva far valere. In altre parole si voleva affermare che le razze, questo era il termine terribile che veniva utilizzato, erano fatte per essere separate e distinte, ma che queste razze in realtà godevano comunque degli stessi diritti perché erano uguali dal punto di vista del riconoscimento giuridico. Non era vero. La comunità bianca aveva dei diritti molto più importanti della comunità nera. La comunità nera ad esempio non aveva di fatto la possibilità di esercitare il diritto di voto, il primo dei diritti di una democrazia. Uno dei luoghi sicuramente più odiosi della segregazione erano gli autobus. Le norme della segregazione degli autobus rispondevano a delle regole molto precise e codificate. I bianchi potevano tranquillamente salire dalla porta anteriore, i neri dovevano presentarsi alla porta anteriore, mostrare all'autista il biglietto, si sospettava che potessero viaggiare senza averlo pagato, poi si dovevano spostare alla porta posteriore, salire soltanto dalla porta posteriore ed accomodarsi nelle ultime file dell'autobus. Nella parte centrale c'era un'area per così dire intermedia. I neri potevano sedersi nella parte centrale soltanto a condizione che non ci fosse neanche un bianco che si sedeva in quei sedili. Se per caso arrivava un bianco che si sedeva nella parte centrale, immediatamente il nero era tenuto ad alzarsi. Tutto questo era una legge codificata e chi non rispettava queste norme andava incontro a dei problemi di ordine legale. Una multa, quantomeno il fermo e talora addirittura l'arresto. Era il primo dicembre del 1955 quando a Montgomery la signora Rosa Parks salì sull'autobus, mostrò il biglietto, andò dalla porta posteriore, salì ma poi si sedette nella parte riservata ai bianchi. L'autista che conosceva la signora Parks, donna tranquilla, serena, molto dialogica, anche simpatica, al suo modo, in modo benevole, disse signora si alzi, guardi che lei non può sedersi, lo sa benissimo. Quel giorno Rosa Parks decise di non alzarsi. Allora qui c'è una retorica, anche un po' avvilente, che vuole che quel giorno la signora Parks fosse particolarmente stanca. Lei era di professione sarta, quindi che aveva i piedi che le facevano male e quindi non se la sentiva di cedere il suo posto e quindi quel giorno era un po' stanca e determinata a restare seduta. Non era così. Il primo dicembre Rosa Parks era salita sull'autobus con la precisa intenzione di violare le leggi della segregazione raziale sui mezzi di trasporto dell'Alabama. Era assolutamente consapevole e accompagnata da varie associazioni che sostenevano e in qualche modo facevano campagna per difenderla anche dalle conseguenze che questo suo gesto di disobbedienza civile avrebbe determinato. E quindi immediatamente Rosa Parks, che violava la legge sulla segregazione, fu fermata e arrestata. Quindi fu un atto intenzionale che rientrava in una strategia molto precisa. Qualche mese prima un'altra ragazza minorenne, ragazza madre incinta, aveva fatto la stessa cosa ma il movimento di Montgomery decise di non gestire quel caso. Immaginando che l'attenzione degli osservatori della stampa si sarebbe concentrata sul fatto che la ragazza era minorenne ed era per l'appunto una ragazza madre. Quindi qualcuno che non aveva quella limpida e specchiata caratteristica invece per esempio della signora Parks. Questa era l'America moralista e razzista di quegli anni e quindi il movimento pur apprezzando il gesto di Claudette Colvin, come appunto si chiamava questa minorenne, decise di non aprire un caso. Diversamente invece il primo dicembre con Rosa Parks la cosa funzionava perfettamente. La notorietà, la stima di cui la signora godeva nella città era tale da giustificare una campagna. Immediatamente, avendola in qualche modo programmata, gli animatori del movimento antirazzista Montgomery si organizzarono e convocarono un'assemblea dove? Nella chiesa battista, in una delle chiese battisti e delle città. Di nuovo sono le chiese il luogo di connessione, lo spazio libero nel quale la comunità si può organizzare, lo spazio forse l'unico spazio in cui gli afroamericani erano davvero padroni a casa loro. Per il resto erano soltanto delle persone anonime, non chiamate neanche con i loro nomi, ma chiamate piuttosto come ragazzo, ragazza, anche se erano individui adulti. Si svolge un'assemblea nella chiesa battista e bisogna decidere la strategia. È importante questo dettaglio perché ci aiuta a capire che il movimento per i diritti civili non nasce con Martin Luther King, ancora il personaggio King non esiste, è un giovane pastore arrivato a Montgomery e quindi è molto vero quello che afferma una delle prime collaboratrici di King, poi anche in dissenso critico nei confronti del reverendo, Ella Baker, la quale affermò che non fu King a inventare il movimento per i diritti civili, ma fu il movimento per i diritti civili a inventare Martin Luther King. Cosa si vuole dire con questa affermazione? Si vuole dire che già esisteva una rete, un tessuto di resistenza al razzismo e alla segregazione che ha trovato in King il suo portavoce. Tutto questo non sminuisce la portata del personaggio, ma al contrario la cresce perché dimostra la sua capacità di orientare masse importanti di afroamericani. Cosa si decide in quell'assemblea nella chiesa Battista? Si decide una grande azione non violenta, il boicottaggio degli autobus. Non si prenderanno più gli autobus. È il 5 dicembre quando si decide questa cosa, sono passati quattro giorni dall'arresto di Rosa Pax. Il boicottaggio durerà fino al 20 dicembre dell'anno successivo, del 56. In altre parole durerà 382 giorni, 382 giorni nei quali gli afroamericani di Montgomery non presero gli autobus per boicottare la compagnia. Provarono a darsi delle forme di organizzazione diversa, autogestita, dei taxi collettivi, delle macchine collettive. Il Consiglio Comunale della città intervenne per vietare di dare passaggi a chi non fosse membro del nucleo familiare. Quindi davvero ci fu un'aggressività razzista del sistema che voleva difendere la segregazione. Ma in realtà, grazie anche a una sentenza della Corte nazionale prima e di quella costituzionale dopo, il sistema della segregazione, della sua forma più violenta e brutale, stava crollando. E in quei giorni, i giorni di Montgomery, migliaia di persone ritennero più dignitoso camminare per strada piuttosto che sedersi sui sedili della umiliazione. E come sempre espressero questo loro impegno con il canto, in particolare Indigro Spiritual, sono la colonna sonora del Movimento per i Diritti Civili, sono la narrazione che il Movimento per i Diritti Civili esprime per raccontare le sue pene e la sua speranza. E uno di questi canti dei giorni di Montgomery fu Guide My Feet, guida i miei piedi perché io non voglio correre questa corsa in vano. Guida i miei piedi, Lord, While I run this race, guide my feet, Lord, while I run this race, guida i miei piedi, Lord, While I run this race, guida i miei piedi, in vain, in vain. Hold my feet, Lord, while I run this race, guida i miei piedi, Lord, while I run this race, guida i miei piedi, While I run this race, guida i miei piedi, Lord, while I run this race, guida i miei piedi, Lord, While I run this race, guida i miei piedi, in vain. While I run this race, guida i miei piedi, in vain, in vain, in vain, in vain, in vain, in vain, in vain. Grazie alla mobilitazione e allo boicottaggio degli autobus, la compagnia dovette cedere. E quindi dopo oltre un anno, finalmente rinunciò al sistema della segregazione. Finalmente il 21 dicembre del 1956 i primi neri poterono sedersi su qualsiasi sedile degli autobus di Montgomery. Fu certamente un grande successo, ma era soltanto la prima tappa. Dei segregati gli autobus restava segregato tutto il resto della società americana, le scuole, gli ospedali, i negozi. E quindi occorreva una nuova iniziativa che spingesse le corti federali, le amministrazioni locali a spezzare le catene della segregazione. Come dire, la nuova campagna però prendeva spunto da una vittoria, perché davvero quella di Montgomery era stata una importantissima vittoria del movimento non violento. Sullo sfondo però, al di là del tema della segregazione, viene un'altra questione, eminentemente politica e giuridica. Cioè il fatto che oltre 20 milioni di afroamericani non avessero il diritto di voto, o meglio, avessero assolute difficoltà a esercitare il diritto di voto. E quindi inizia un nuovo movimento che spinge sia nella direzione della desegregazione dell'intera società americana che della richiesta del diritto di voto. Arriviamo così agli anni 60, in particolare al 1960, quando un giovane democratico arriva alla Casa Bianca, John Fitzgerald Kennedy. La speranza degli afroamericani è molto alta, il personaggio è un personaggio nuovo per certi aspetti, ha una dinamicità, è un uomo relativamente giovane, quindi in qualche modo libero dai pregiudizi della tradizione dello schiavismo, dell'eredità dello schiavismo e quindi della cultura della segregazione. In realtà, al di là di qualche apertura, fin dall'inizio fu chiaro che Kennedy non avrebbe fatto molto né per promuovere la desegregazione e ancor meno avrebbe fatto per ottenere e garantire il diritto di voto agli afroamericani. E lì King capì che bisognava, per così dire, alzare l'asticella, andare a una fase nuova del movimento per i diritti civili, che individuasse nuove strategie non violente per garantire i diritti degli afroamericani. Martin Luther King Il podcast video è una produzione di RBI, radio e tv, testi Paolo Naso, voce Elisa Biason, voce e pianoforte Alberto Annarilli, tratto dal libro di Paolo Naso, Martin Luther King, una storia americana.